La bellissima chiesa di Abglona che vedete alle mie spalle è un classico esempio di architettura neoclassica. È un tipo di architettura splendente, bianca, luminosa, che caratterizza in contraposizione con quella che è la cristianità ortodossa, i caratteri della cristianità cattolica. È una chiesa molto bella e anche, viste le sue dimensioni, è una chiesa anche importante perché per la Lettonia difficilmente in questo paese troviamo delle chiese di dimensione maggiore. Il consiglio, io adesso non andrò a filmare l'interno, non andrò apposta per lasciarvi, a chi verrà qua, quella specie di alone, di area di mistero, per andare a vedere qualche cosa di nuovo e ancora che non ha visto. Eviterò quindi di andare all'interno però vi lascio con questa bellissima panoramica, con anche il bellissimo paesaggio che vedete attorno, con un invito a venire in Lettonia proprio specialmente per visitare questo posto. Venite a Abglona.